Ciao a tutti, oggi inizio con questa bellissima immagine che ho trovato in un calendario per il 2020. Farò un sapone che la imiterà o perlomeno cercherò di fare che si avvicini più possibile. Ho preparato delle scagliette di sapone dipinte parzialmente con della mica argento, eccola qua, e con il bluetto andrò a colorare mezzo impasto del mio sapone in modo da poter fare un zigzag molto stretto per arrivare più o meno a imitare questo disegno. Non sarà uguale perché queste, come vedete, sono delle spatolate, però l'effetto che volevo creare è abbastanza simile. Mi sono preparata tutto ciò che serve, il mio stampino, ho preparato un divisorio in cartoncino foderato con la pellicola da mettere in mezzo per dividere i due colori, un pennellino per ritoccare appunto le scagliette di sapone argento e due bastoncini perché poi valuterò al momento in base come mi si forma il disegno se usare quello fino o solo quello grosso. Come al solito gli attrezzi di sicurezza, perciò abbiamo mascherina, guanti e occhiali. Perciò vado a preparare adesso la mia base di sapone e inizierò a svirlare per formare questo bellissimo dipinto. A dopo, ciao ciao! Ecco preparato i miei due colori, l'azzurro bluet e qui ho lasciato pasta bianca naturale, ora la vedete un po' giallina ma poi quando asciugherà schiarirà e sembrerà un bianco crema molto chiaro. Ho voluto evitare il colore questo bianco azzurrato perché avevo paura mi facesse un effetto un po' gessoso. Ho tenuto un nastro medio tendente al denso però, vedete? è una bella crema. Ecco qua. Gli do un'ultima girata con la spatola. Lo stesso faccio con questa blu. non lo volevo troppo liquido perché altrimenti quando svirlavo così stretto mi si sarebbero mescolati troppo i colori. Invece volevo che facesse delle sfumature un po' più definite, meno evanescenti. Ora verserò in contemporanea i due colori, perciò è stato fatto mezzo di un colore e mezzo dell'altro. Ecco qui, questo è andato un po'... Ho pasticciato un pochino. Per fortuna su questo tipo di sapone non mi comporta un gran problema, perché poi lo devo mescolare tutto. Ecco qua. Aggiungiamo ancora bianco. Bene, ne avanzo un pochino. Dopo farò una formina. Sempre vicino a me, vengo della carta per eventualmente raccogliere le gocce di sapone caduta. Ecco qua. E per mettere il divisorio, ora che lo vado a togliere. Mi ero preparato un po' di scotch, vedete, in modo da andare bene a prenderlo, per avere una buona presa e portarmelo su. E ora lo metto in pentola. Così poi vado a recuperare anche un po' di impasto. Ecco qui. Ora parto con uno stecchino, questo qua da spiedino. Lo giro con la punta verso su, in modo da non strisciare lo stampo. Vediamo se vedete bene. E comincio a fare un swirl stretto. Guardando l'effetto, parto con un stecchino più grosso. Vorrei una cosa un po' più a vista. Ecco qua. Un bel effetto di punte. Ora aggiungo un po' di blu. Senza volerlo, sono riuscita a ottenere l'effetto spatolate. Basta. Così, non voglio fare altro. E c'è un bel effetto questo. Ora con una pinzetta andrò a mettere questi pezzettini che ho colorato con l'argento qui in mezzo. Dopodiché, quando sarà abbastanza asciutto in superficie, con il pennellino e un po' di mica argento andrò a fare ulteriori punteggiature, macchiette sotto di questi appunto pezzetti che vado a mettere. In modo da creare un po' l'effetto. Vi faccio vedere profondità. Perché in questo quadro, vedete, era stata messa della stagnola. In modo che fa un effetto un po' di rilievo. Allora mettiamo un po' qualche pezzettino. Non le ho colorate benissimo perché poi non sapevo quante ne avrei utilizzate e ho detto aggiungo dopo un po' di colore. Vedete, loro galleggiano perché comunque la pasta è abbastanza sostenuta. Un altro pezzettino. Questo lo spezziamo, che lo voglio un po' più piccolo. Ecco, in effetti ne avevo fatte in più. Vediamo se aggiungerne qualcun'altra, magari spezzandola, un po' più piccola. Potrebbe essere qua. E la portiamo un po' più in centro. Lascierei anche così perché poi andrò a aggiungere qualche macchietta sulla superficie quando appunto si sarà un po' più rassodata. Guardate cosa vi sembra. Vediamo un po' se riusciamo a farlo vedere meglio. Richiama abbastanza questo quadro. Poi lo vedremo finito. È un po' come la sarta. Quando imbastisce un abito non è mai bellissimo come quando lo si vede già cucito bene e con tutti i suoi dettagli a posto. Bene, allora io vi lascio qua. E spero di avervi dato una buona idea. Perciò anche da un quadro si può ricavare l'idea per una bella saponetta. Nel caso sono sicura che voi farete qualcosa anche di superiore a questo perché quando si parte già con una base poi si elabora e si creano delle cose bellissime. Proprio con questo proposito spero che vi piaccia e che possiate farmi vedere anche qualcosa di bello che ora create voi. Io intanto vi saluto. Ciao ciao e vi ringrazio per la visione. Ci vediamo poi con le foto. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!